I legali di Alex Danut, il cinquantenne romeno che due anni fa travolse ed uccise mamma e figlia a Salleo hanno chiesto per l'uomo la libertà anticipata. In primo grado Danut era stato condannato per quel duplice omicidio a nove anni e due mesi di carcere, pena ridotta nel secondo appello di giudizio a cinque anni e due mesi e dunque sostanzialmente dimezzata, scelta che fece esplodere la rabbia dell'intera cittadinanza. Ed adesso la difesa dell'uomo ha chiesto al tribunale di sorveglianza un ulteriore sconto di penne alla libertà anticipata, ossia la riduzione di 45 giorni ogni semestre in base alla buona condotta. La risposta dei giudici potrebbe arrivare a breve. Era il 31 gennaio 2016 quando Danut ubriaco al volante della sua minicar travolse la piccola Letizia di appena dieci anni e la mamma Marzanna, mentre camminavano sul marciapiede a San Leo, paese alle porte di Arezzo. Le due persero la vita in quel drammatico incidente. Nel sangue di Danut un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito. Danut venne subito rintracciato ed incarcerato.